eccoci qua con un nuovo programma intitolato chiacchiere da rally con me in studio fabio boggione grazie italiana siamo in attesa dei nostri ospiti che arriveranno a breve marco varetto ed elvi chantra per questa prima vincente puntata di questo nuovo programma del nord ovest ecco che ultimamente proprio in questi ultimi anni avendo sviluppato tantissimo il discorso assetto diventano veramente delle macchine da pista dunque bisogna essere precisi puliti usare tutta la strada usare bene il motore dunque sacrificare magari la guida istintiva in quella calcolata era più rally vero nel senso più cattivo guida più arrogante alla caveglia mi raccomando seguiteci perché la puntata andrà in onda venerdì 5 aprile alle 21 su on tv web grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti